Molise a calci, in collaborazione con Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina-Isernia-San Salvo, uscita a Civitanova del Sagno Buonasera, ben ritrovati con un'altra puntata di Molise a calci che si annuncia davvero molto interessante, si parlerà di calcio attraverso i servizi filmati e le interviste che vedremo da qui a pochissimo riguardanti i campionati di Serie D e di eccellenza ma soprattutto direi di calcio a 5, cioè di futsal perché ci apprestiamo a vivere praticamente dal 16 al 23 di dicembre, prossimi sette giorni di futsal completamente campo bassano e allora abbiamo pensato di giocarlo, ovviamente è una battuta la nostra prima qui negli studi di Molise a calci di Telemolise e poi li vedremo questi due derby dal vivo, uno si giocherà sabato prossimo al Pala Unimol, quello successivo di Coppa Italia si giocherà al Pala Selvapiana, ma non voglio anticipare troppo i temi di Molise a calci, puntata numero 192, allora mi stai tirando per la camicia? Sì, mi sta tirando la nostra Cecilia Di Lauro buonasera a te, buonasera a te Gianni, buonasera ai nostri ospiti tra poco vi presenteremo, grazie per essere qui con noi buonasera anche a tutti quanti i nostri amici numerosissimi che ci seguono anche questa sera dal Lazio compresa Roma al canale 880, poi dall'Abruzzo al canale 96, dal Molise come sempre al canale 11 e per tutti quanti gli altri ricordiamo la possibilità di poterci seguire con lo streaming al sito www.telemolise.com Allora, stasera sei tigrata, si può dire così? Tigrata, alla fine sì, l'hai detto, sì sono tigrata Tu mi hai consigliato a microfoni spetti di non dire tigrata e io ho detto perché non è una parolaccia Si può dire non è una parolaccia Anzi, l'abbigliamento è coperto su questo genere? Su questo tema, sì, stasera tigrata appunto voglio ringraziare come sempre l'Atelier Smeralda che è sito in Piazza Pepe a Campobasso Come sempre se vi recate in Atelier troverete questo ed altri abiti veramente bellissimi Tu sei molto elegante invece in blu come sempre Ma non tigrato Ma non tigrato, peccato alla prossima però tigrato Partiamo presentando i nostri ospiti Un piacere questa sera avere qui con noi Antonio Di Stefano, il capitano della CLN Cus Molise Buonasera a te Antonio Buonasera, grazie per l'invito E poi abbiamo Silvio Iacovino, portiere della Chaminade Allora, buonasera ad entrambi due ospiti importanti L'uno del capitano del CLN Cus Molise L'altro portiere, uno dei portieri della Chaminade Allora, questo derby lo possiamo giocare già qui Antonio A Molise a calci Se ne giocheranno tanti Quindi il primo dei tre Perché uno lo giochiamo qui Inizia qui Quindi questo derby tutto Ufficialmente Questo derby tutto Campobassano Ufficialmente tra l'altro ex equo a 16 punti Sì Quindi che significa dopo dieci giornate? Che stiamo facendo entrambe le compagni di un buon campionato Sabato siamo riusciti ad agganciare Complice il risultato non favorevole della Chaminade E quindi partiamo alla pari E sabato vediamo se O l'una o l'altra squadra riusciranno A scavalcare l'altra Silvio Allora, ma hai portato il pallone Per giocare questo derby? Certo Sempre, sempre Ce l'ho sempre Il pallone ce l'ho sempre Va bene Simpaticissimo il nostro amico Silvio Iacovino Che si è accarezzato Il ventre La pancia Allora, questo derby lo possiamo giocare qui Ecco, parte come una sfida Una doppia sfida equilibrata a tuo avviso Sicuramente Saranno due sfide equilibratissime Lo prova anche la classifica Visto che siamo entrambe a 16 punti E lo spettacolo senz'altro non mancherà E vediamo il campo cosa dirà Sicuramente un impegno di campionato Un impegno di coppa Sull'onda dell'importanza Non possono essere uguali Però entrambi scenderemo in campo Insomma per riportare 6 punti a casa Certo, lo stesso obiettivo anche del CLN Cus Molise Allora faccio un riepilogo Chaminade dell'ultimo turno Chaminade-Ruvo 4 a 6 Dico i gol delle squadre di Campobasso Due gol di Labella Uno di Pablo Gonzales Un autogol di Campanale Che poi segnerà anche nella porta quella corretta Capurso-Cus Molise-CLN 2 a 6 Correggimi Antonio se sbaglio Quattro gol di Melfi Uno proprio del cui presenta Antonio Di Stefano Capitano e uno di Joao Alonso Allora che cosa è mancato fino adesso Al CLN Cus Molise Se è mancato qualcosa O siete in regola con quello che vi aspettavate? No, sì Il nostro obiettivo era quello di veleggiare Diciamo nelle zone alte della classifica A ridosso della zona playoff Dove siamo adesso Chiaramente dopo c'è un po' di rammarico Per come sono stati persi quei punti per strada Vedi il pareggio maturato con l'Altamura Due sabati fa in trasferta Dove eravamo in vantaggio per 3 a 1 Dopo nel finale siamo stati raggiunti E poi una brutta prestazione Possiamo dire in casa col Manfredonia Dove abbiamo perso per 3 a 2 Però tutto sommato Stiamo lavorando bene Siamo contenti Siamo in continua crescita E sono convinto che si può continuare a fare bene Col Manfredonia sconfitta con dei gol davvero spettacolari Da parte dei pugliesi Io l'ho vista in diretta Proprio sul nostro canale dedicato 112 Silvio Iagovino al volo Come si fa a non vedere il gol di Canzio? Ieri è stato oggetto di Moviola Il gol, ecco, se è possibile Ci sono delle immagini relative a Chaminade-Ruvo La partita persa proprio dalla Chaminade 4 a 6 In generale tu vorresti regalare degli occhiali Agli arbitri di Chaminade-Ruvo Guarda, personalmente È una battuta a 48 ore dalla sconfitta Però è stata nociva Perché ha influenzato il ritmo del match Visto che si era sullo 0 a 0 Un errore inammissibile direi Beh sì, perché passare in vantaggio Sicuramente avrebbe aperto una gara del tutto differente Tanto è vero che siamo andati sotto Siamo andati sotto noi Poi personalmente credo che come si sbagli un gol a porta vota O come da portiere posso sbagliare un intervento Possano sbagliare anche gli arbitri sicuramente Purtroppo era un episodio abbastanza evidente Voglio pensarla come un errore che può capitare Ma non dovrebbe pregiudicare l'esito finale di una gara Eccolo qui, eccolo qui Gran gol di Canzio Gran gol Questo lo voglio sottolineare Perché non è facile mettere il pallone lì Ecco, vedete, va avanti, tiro, gol E in questo momento nessuno dei due arbitri Vede la marcatura Vorrei sapere solo questo Chiaramente io non ci sono insinuazioni Penso che sia stato un errore marchiano Macroscopico di entrambi gli arbitri Avete provato a parlare nel corso della partita Subito dopo Con uno dei due o con entrambi? Purtroppo dall'esperienza di questi anni In cui mi cimento nel futsal è sempre difficile interloquire con gli assisti Con gli arbitri Non sono molto aperti insomma al dialogo Quella è la loro decisione La rispettiamo per carità Però credo che il dialogo sia formante Sia formativo Però non c'è stato Mi stai dicendo Dopo questo episodio in particolare Dialogo con la coppia di arbitri Non si è verificato Allora noi andiamo verso il calcio di Serie D Perché questa è una trasmissione nella quale si parla di tutto Quindi stiamo parlando di futsal come preparazione Al doppio derby Campobassano Di sabato 16 Sabato 23 Quindi sabato proprio Uno dei due sabato proprio pre-natalizio La cosiddetta antivigilia di Natale Li seguiremo entrambi Ma adesso sconfitta interna del Campobasso Contro il Pesaro Vedete quante vittorie esterne Ben 4 su 9 partite Compresa quella del Matelica Che si è confermato a San Marino San Marino che è assolutamente in crisi Sorprendente la vittoria del Pineto Sul campo dell'Avezzano Così come la prima in assoluto Quella del Monticelli Contro il Castelfidardo Ha vinto la prima partita La sedicesima giornata Chiaramente qualcosa deve cambiare Se il Monticelli vuole salvarsi E allora Cecilia a te Sì Gianni Adesso come sappiamo si è giocata quindi Campobasso-Vispesaro Una disfatta l'ennesima del Campobasso E noi abbiamo sentito Giancarlo Riolfo Il mister della Vispesero-Pesaro Mister Giancarlo Riolfo del Pesaro Vittoria indiscutibile Ci riferiamo al merito Della stessa L'episodio decisivo Può essere stato l'espulsione Di Esposito Lauri? Ma non credo che Per come si era già messa la partita Anche nel secondo tempo Per come colpiglio Che avevamo messo Nella ripresa Dopo aver fatto un ottimo inizio Nel primo tempo Non penso che sia stato determinante Sicuramente si è agevolato E sicuramente Giocare con una squadra in dieci Che è contro uno in undici Però penso che la mia squadra Avrebbe fatto lo stesso tipo di prestazione Nell'ultima mezz'ora Anche se il Campobasso rimaneva in undici Diciamo che complessivamente È stato un ottimo Pesaro Che è venuto meno Nella seconda parte del primo tempo Sì Un po' di frenesie Merito anche del Campobasso Sicuramente sì Merito del Campobasso Di rimanere in partita Di noi un po' troppa frenesia Qualche passaggio sbagliato di troppo Qualche giocatore di troppo Oltre la linea della palla Ci ha compromesso qualche contropiede Qualche ripartenza Dove il Campobasso È stato bravo a sfruttare Anche se il gol è arrivato Da una palla inattiva Con un paio di rimpalli Bravi comunque a sfruttarle Noi abbiamo rischiato anche Regalandogli una punizione dal limite Dove sappiamo che D'Agostino è molto bravo E noi siamo stati fortunati Che ha colto la traversa Però poi devo dire che Sulla discussione del risultato Della prestazione Non penso che ci sia nombra Cruzio è un po' il suo asso Nella manica In questa prima parte di campionato Ha fatto sei gol Lo ha inserito Ha segnato Ma soprattutto ha costruito Tante palle e gol Si muove bene il brasiliano? Sì, ma io ho tre attaccanti Ottimi Che sono sia Olcese, Baldazzi e Cruz Wilson Oggi non ho fatto partire La partita di inizio Perché sapevo che comunque Il suo impatto all'interno della partita Poteva essere importante Mi sarebbe piaciuto Delle tre o quattro occasioni pulite Che ha avuto Ne avesse fatti di più Però sono felice per lui E per la squadra E per il risultato ottenuto Allora, da un lato Fortunato il Capo Basso A conquistarsi quella punizione Con D'Agostino Perché è stato frutto Di un'ingenuità Del portiere Marfella del Pesaro Dall'altro Fortunato il Pesaro Perché di solito Quando batte contro uno dei Lenni Ha fatto in specie La traversa Poi va sulla schiena Del portiere Di solito va dentro Così non è stato Per il Campo Basso Che oggi Tiene un summit Societario Per fare il punto Della situazione Abbiamo appreso Proprio questo E tra gli argomenti All'ordine del giorno C'è anche una valutazione Del rendiconto Del nuovo tecnico Masecchia Chiaramente È sul banco Degli imputati Anche lui Proprio per un fatto Di punti Di score Due punti In cinque partite Tre sconfitte E due pareggi Una media Che si è abbassata Clamolosamente E non ci meraviglieremo Se si possa poi Procedere ad una nuova Sostituzione Chiaramente Se ci dovesse essere Una logica In tutto questo Si potrebbe Ritornare Alla precedente Gestione tecnica Ma non sono Decisioni Che sicuramente Spettano a noi Ma Masecchia Può essere In questo momento Sul banco Degli imputati Perché la squadra Subisce tanto E segna Pochissimo L'Agnone È in un momento Di forma esaltante Cecilia Sì Gianni Noi proseguiamo Ancora con la serie D Si è giocata Olimpia Agnonese Nero Stellati 2 a 0 Per l'Agnone E noi abbiamo Raggiunto Mister Pino Di Meo L'allenatore Dell'Olimpia Agnonese E subito dopo Invece ci sentiamo Matteo Di Marzio L'allenatore E dei Nero Stellati Mister Di Meo Arrivano Tre punti importantissimi Per l'Olimpia Agnonese Contro i Nero Stellati In primo tempo Un po' Claudicante Per i suoi In un secondo tempo Una faccia Completamente diversa All'Agnonese È stato Un secondo tempo Bellissimo In un primo tempo Così così Perché il Vendo Ha fatto la sua parte In un secondo tempo Abbiamo iniziato a giocare Abbiamo giocato bene In un secondo tempo Abbiamo vinto Con grande merito Ecco In panchina Lei ha letto bene Ha letto bene La partita I campi di Peic E Santoro Sono stati Insomma Hanno fatto il loro Sì Sono stati I ragazzi che stanno In panchina Hanno dato dimostrazioni Che quando entrano Ci stavano E hanno dimostrato Oggi Questo Cambiano un po' Le sorti adesso Per l'Olimpia Agnonese No Rispetto all'inizio Del campionato Stiamo lottando C'è da lottare tantissimo E da migliorare tantissimo Sappiamo che la società Sta operando sul mercato Per rinforzare Quelle che sono Le deficienze Che in questo momento Ha questa squadra È un momento di transizione Speriamo che questa settimana Arrivino Quei calciatori Che possano Quanto meno Darci Quelle soluzioni in più Anche a partiti in corso Perché oggi avevo tutti Tutti i ragazzi Avevo quattro ragazzi Che avevano giocato ieri Con la Juniors E quindi Non ho in questo momento Anche soluzioni di gioco In partita In corso di gara Allora L'Agnone sette Ecco abbiamo visto Antonio Di Stefano L'Agnone sette punti Nelle ultime tre giornate Tra poco La Moviola È stata ricca In Campobasso Pesaro Nulla che abbia Intaccato Il risultato finale Che è assolutamente meritato Anche se si è giocato Su un campo Per il Pesaro Ai limiti della praticabilità Sì è così Secondo me Il campo ha inciso molto Sulla vittoria del Pesaro Sì Sì Va bene E allora Antonio Sul Campobasso E sull'Agnone Sì Il Campobasso Ha perso un po' Diciamo Quella quadratura Soprattutto quella compattezza Difensiva Che aveva Nella precedente gestione Il problema prima Era fare gol Però diciamo Che adesso Subisce troppo Mentre l'Agnone Per quanto riguarda Sta diciamo Risalendo E anche l'Agnone Aveva un problema A fare gol In fase offensiva Però in queste Ultime partite Sta diciamo Portando a casa punti Che sicuramente Fa bene E fa risalire La classifica Ti meraviglieresti Se saltasse Masecchia E tornasse Foglia Manzillo A Campobasso No Nel calcio Ci siamo ormai Abituati Che questi avvicinamenti Possono Possono succedere Sì Chiaramente Un allenatore Che è qui Da cinque partite Giusto Correggimi Sia sbaglio Non ha totalizzato Nemmeno una vittoria Ma soltanto Due punti Chiaramente C'è qualcosa Che non va Adesso Forse È il momento Di guardarsi in faccia Come hai detto tu C'è questo summit Nel pomeriggio Dove sicuramente Ci sarà un confronto Tra la società E conseguentemente La squadra Con l'allenatore E con la società Va bene La Moviola È interessante Lo possiamo garantire Perché il Campobasso Ha chiesto un rigore A Selvapiana Il Pesaro Si è visto togliere un gol Insomma è successo Davvero tantissimo Quindi non solo Le palle-golle del Pesaro Che sono state Almeno otto Dobbiamo dire Dobbiamo essere onesti Così come è successo Molto da apprezzare Non anticipiamo nulla Qualcosa Che è successo Al Civitelle Di Agnone Si Gianni È successo tantissimo Noi siamo curiosissimi C'è stata come sempre L'impeccabile selezione Curata dal nostro direttore Antonio Di Lallo In collaborazione con Carburanti e lubrificanti Paglione Carburanti agricoli e per autotrazione Lubrificanti mobile Oli motore Oli idraulici Oli per trasmissione Cambi differenziali Ora nella nuova sede Di Contrada Iontapede Nella zona industriale Campobasso Ripa Limosani Carburanti e lubrificanti Paglione Dal 1952 Ci prendiamo cura Del tuo motore A Selvapiana Siamo al quarto minuto Del primo tempo Torniamo un attimo dietro Insieme al nostro regista Donato Mignogna Perché è il primo gol Della Vispesaro Davvero belle Le triangolazioni Della squadra Biancorossa Abbiamo seguito Il pallone Da Rossoni Baldazzi Poi palla Di ancora Buonoconto Per Olcese Vedete Buonoconto Per Olcese Il gol di Olcese Sicuramente bella L'azione Della Vispesaro Ma Campobasso Messo male Difesa Che non è riuscita Di intervenire Su quattro passaggi Praticamente Di prima Dei giocatori Della Vispesaro Bel gol Ma difesa Del Campobasso Assolutamente Da rivedere Al ventesimo Angolo di Buonoconto Viene annullato Un gol Alla Vispesaro Seguiamo Il tiro Di Olcese Fermiamoci Quando Olcese Colpisce Il pallone Torniamo un attimo Dietro Ecco Fermiamoci qui Quando Olcese Colpisce il pallone Andiamo avanti Un attimo Con le immagini Ecco qui Vedete Davanti al portiere Del Campobasso Lanti C'è soltanto Rossoni Che poi segnerà Il gol Che viene Giustamente Annullato Dal direttore Di gara Il signor Di Graci Di Como Per posizione Di fuorigioco Posizione di fuorigioco Che c'era Tutta Quarantesimo Del secondo tempo Calcio Calcio Di rigore Chiesto Dal Campobasso Seguiamo Il cross Di Delprete Andiamo piano Avviciniamoci Con la lente Di ingrandimento Perché vedete Il giocatore In maglia bianco-rossa Che praticamente Cade E il pallone Gli va a sbattere Praticamente Sull'anca Destra Si trattava Di radi Quindi Campobasso Che ha chiesto Un calcio Di rigore Ma il giocatore Della Vispesaro Non ha nemmeno Sfiorato il pallone Con il braccio In realtà La sfera Gli è andata A colpire L'anca destra Quindi ha fatto bene L'arbitro Il signor Di Graci A lasciar Proseguire Trentottesimo Del primo tempo Al Civitelle C'è questo calcio Di punizione Di Margarita Che è soltanto Sfortunato Perché vedete Il numero 7 Dell'Olimpio Agnonese Che fa girare Il pallone Che colpisce La parte alta Della traversa E poi si perde Sul fondo Con il portiere Del Nero Stellati Completamente battuto Ma la sfortuna Ha impedito All'Agnone Di passare In vantaggio Già nel primo tempo All'ottavo minuto Della ripresa C'è questa azione Molto pericolosa Dei Nero Stellati Perché il cross Di Vitone Si gira In mezzo All'area di rigore Del Gizzi Ma il pallone Colpito molto bene In contratempo Seguiamo il cross Vedete il colpo Di testa Del Gizzi Che va a colpire In contratempo Rispetto al portiere Dell'Agnone Faiella Però la mira È sbagliata Per fortuna Della compagine Granata Schierata In maglia bianca La sfera Termina A lato 27esimo Del secondo tempo C'è questo Gran gol Di Litterio Seguiamolo Perché è stato Davvero un bel gol Vedete Litterio Che osserva Il piazzamento Della difesa avversaria Probabilmente Vede anche Il portiere Dei Nero Stellati Un tantino fuori Fatto sta Che avvita Questo tiro Davvero Con l'interno Del piede destro Che scavalca Il portiere Della compagine Avversaria E termina In rete Davvero Un bel gol Tra l'altro Il gol Della sicurezza Per l'Olimpia Allora Selva Piana Gol Del Pesaro Annullato Gol Dato Quello dato Antonio Praticamente Antonio Di Stefano Il Pesaro Ha toccato palla Quattro volte Nel giro Di sei secondi Insomma Il campobasso Doveva stare Più attento Perché era appena Iniziata la partita Sì Sì È stato Però Un bel gol Diciamo Un gol Da calcio a 5 Perché sono state Varie giocate Di prima È stato Una bella Segnatura Chiaramente Un po' L'immobilismo Della difesa Del campo basso C'è Insomma Da rivedere A ragione di Stefano Silvio Iacovino Si vedono nel calcio a 5 I gol Come quello del Pesaro Certo Tutto di prima Giocate veloci Un bel gol Ben realizzato Quello di Litterio Dell'Olimpia Olimpiagnonese Qual era L'ultimo Ho visto Sul tiro cross Per me Ha tirato Poi potrebbe essere Anche un cross fortuito Che è freddo in porta Secondo me ha tirato Perché guarda la porta E quindi ancora più merito Per l'Litterio Dell'Olimpiagnonese Che ha chiuso i giochi Contro il Nero Stellati Adesso noi chiudiamo Altri giochi Quali? Sicilia Dobbiamo fermarci per un po' Però sempre per pochissimo Mi raccomando Voi non vi muovete Torniamo tra pochissimo Puntata numero 192 Di Molise a calci Dedicata alla Serie D All'eccellenza E ai prossimi due derby Tutti campo bassani Di Futsal Di Serie B Chaminade Cus Molise Si parte Per entrambe Dai 16 punti in classifica Ovviamente da 0 a 0 Ci mancherebbe altro Allora facciamo un gioco Chi toglieresti A una delle due squadre Ovviamente sentiamo Che non risponda L'interrogato L'altro ospite presente Giustamente Allora Capitano del CLN Cus Molise Chi toglieresti In questo momento Alla Chaminade Cioè dopo 10 giornate Di campionato Ecco quello che hai visto Che si è verificato Sicuramente quest'anno È difficile dirlo Perché Deve essere poco diplomatico Si è molto rinforzato A Scemeade Sicuramente se Gancio Però fa quei gol Quindi è meglio Che non gioca sabato Perché può darsi Che stavolta L'arbitro Lo veda il gol Quindi Meglio che Si riposa un po' Ho grossi dubbi Che Cancio Non giochi Però Antonio Di Stefano Se potesse Toglierebbe Cancio Dalla Chaminade Silvio Iacovino Che quest'anno Hai fatto Quante presenze Con la Chaminade 5 E 5 vittorie Sì Ti giochi il posto Con Sarial Suad E Alfredo Badodi Sono Siete tre Ottimi portieri Quindi ha pizzuto La difficile scelta Chi toglieresti Al Cusmo Lise Io personalmente Il mio candidato speciale È Leo Melfi Per le prestazioni Soprattutto alla luce Dell'ultima gara Dove ha realizzato 4 reti Ma anche Per lo speciale Rapporto Che c'è Tra noi E quindi Vederlo da avversario Sarebbe Troppo strano Almeno per quanto mi riguarda Ecco sì Sicuramente Non è una risposta facile Perché vorresti dire Anche Due o tre nominativi Non lo so Anche Bidinotti Avresti detto Barichello Personalmente C'è uno in particolare Mi fermo a uno Perché è sempre bello Avere entrambe le squadre Al completo Per affinché Ci sia anche Una bella partita Senti Una in casa E una fuori Però in questo Doppio derby Conterà poco Questo fattore Casa trasferta Conterà poco Per quanto riguarda I chilometri Da fare Ma il calore del pubblico Sarà Sarà diverso Perché giocare Tra le mura Tra le mura di casa Ovviamente Dà tutta un'altra carica Comunque Non ci faremo influenzare Così come non si faranno Influenzare I nostri cugini Dal diverso campo Su queste due gare Senti Col B-Board Ruvo È stato un incidente Di percorso inaspettato E purtroppo Le sconfitte Sono sempre inaspettate Perché noi Giochiamo sempre Per vincere Per vincere Tutte le partite Un po' La sfortuna Un po' L'arbitraggio Un po' Con noi Comunque È sempre motivo Motivo di crescita Allora io nel frattempo Mi segno Canzio E Melfi Questi due Nominativi Che sicuramente Mi ricorderò Perché evidentemente Voi non li volete Come rispettivi avversari È un gioco Però Nemmeno Troppo È uno scherzo Ma fino a un certo punto Allora Eccellenza Campionato di eccellenza L'Isernia non ha giocato Perché ad Alife Il campo era Impraticabile Così Andiamo Vediamo Subito i risultati Ecco Bravissima E prontissima La nostra regia Ringrazio Angelo Pompeggio A Luca Praetano Rinviata Alife Isernia A data Da destinarsi Poi via via Tutte le altre gare In cui spicca La vittoria del Boiano In trasferta Sul campo Del Gambatese La vittoria del Termoli Contro il Vasto Girardi Vasto Girardi Che ha proprio Accorciato Chiedo scusa Il Termoli Che ha proprio accorciato Sul Vasto Girardi Domenica ci sarà Isernia Termoli Insomma L'Isernia poi A questa partita E meno Che potrebbe essere Questo Alife Isernia Da recuperare Quasi una partita La partita dell'anno Perché poi Potrebbe staccare Proprio dal Vasto Girardi Cominciamo Dalla vittoria del Termoli Cecilia Sì Gianni Andiamo immediatamente Perché dobbiamo sentire Cos'è che ha da dirci Sandro Grossi L'allenatore del Vasto Girardi E poi invece Abbiamo raggiunto Felice Devizia Centrocampista del Termoli Mister Grossi Arriva alla sconfitta Sul campo del Termoli Sicuramente Non ve l'aspettavate Avevate anche però Sulle gambe La gara di Coppa Italia Che aveva Praticamente Tirato via Diverse energie Il Termoli L'ha spuntata Voi avete sofferto Anche in alcuni frangenti Però tutto sommato Si è stati quasi sempre In partita Ma si sapeva Che è un campo difficile Chiaramente Prendere un rigore Dopo un minuto Chiaramente Ci ha un po' Preso di Così Difficoltà Anche se Noi abbiamo avuto Tante occasioni Da gol Per poter Rimettere in piedi Una partita Che sembrava In un certo momento Stregata Perché non riuscivamo A fare gol Creare 5-6 palle gol Tra cui 3-4 clamorose E non fare gol E' chiaro che Diventa tutto difficile Loro hanno messo Tutto quello che Potevano mettere in campo Si sono difesi Hanno lottato Noi abbiamo giocato Soprattutto il secondo tempo A una porta Creare 3-4 occasioni Clamorose E non fare gol Poi fare gol Alla fine Non so se era fuori gioco O non E prendere un rigore Dopo un minuto E' chiaro che Diventa difficile Pure che è una squadra Che non ha mai mollato Ha cercato di giocare Fino alla fine Cercando di trovare La soluzione per fare gol Abbiamo dimostrato Di essere un gruppo solido Una squadra solida Di essere Veramente una squadra Da abbattere Ora in questo momento L'abbiamo dimostrato Con la diretta concorrente Il Vasto Girardi Che anche essa Ha dimostrato Di essere una grossa squadra Siamo stati bravi A fare quel gol E a non concedere Poco nulla Al Vasto Girardi Che davanti A giocatori Di categoria superiore Senti Ha trionfato lo sport Munisano Due belle squadre Della nostra regione Davanti Tra l'altro anche Molto sportive Perché Nei vari tempi Le due panchine Si sono allenate insieme Quindi c'è stata Grossa sportività Anche in campo Un segnale Che il calcio Munisano È ripartito forte Sì ma lo sport Deve essere questo Deve essere aggregazione Soprattutto E poi deve essere Qualcosa in più Per dare Un'intera regione Anche visibilità Perché parliamo Di un Molise Una regione Con pochi abitanti Rispetto ad altre regioni Ma non è da meno Allora Il derby di Campobasso Di Fuzz All'CLN Cusmo Lise Al pala Unimol Contro Chaminade Sarà anche la sfida Tra gli allenatori Marco Sanginario Contro Paolo Pizzuto Tra le due dirigenze Vale a dire Il presidente Del Franco Bossi Della Chaminade Il dirigente Scarnate Il dirigente Di Guia Sempre Della Chaminade Contro La famiglia Dell'Omo Che ha rilevato Il CLN Cusmo Lise In estate Nel CLN Cusmo Lise Si diceva Forse ci sono Troppe prime donne È una voce Un'indiscrezione Tu che cosa dici Di fronte a questo? No Prime donne No Però ci siamo Ci sono problemi Di abbondanza Positivi Nel senso Che abbiamo Molti giocatori Che individualmente Sono molto dotati Tecnicamente Che possono risolvere Da un momento All'altro La partita Quindi diciamo Il mister Si trova in difficoltà Ma è una difficoltà Che penso Ogni allenatore Voglia avere Nessuna allusione Chiaramente Siamo nell'ambiente Quindi ascoltiamo Tutti i possibili Pareri Mentre Silvio Iacovino Portiere Della Chaminade Problemi di abbondanza Ne ha anche La Chaminade Senz'altro Ma come diceva prima Il capitano Di Stefano Sono problemi positivi Il fatto di avere Un'ampia rosa Tra cui scegliere È sempre È sempre positivo Perché fondamentalmente Scenderà in campo Sempre chi starà meglio E chi potrà dare Di più alla squadra In quel momento Quest'anno Migrazione Dallo Sturzo Palestra Di Campobasso Al Pala Selvapiana È una cosa Che vi ha giovato A livello Infrastrutturale A livello infrastrutturale Forse sì Per quanto riguarda La struttura Il campo In sé per sé Ma fondamentalmente Non cambia Il calore del pubblico È sempre quello Gli stessi che ci seguivano Allo Sturzo Ci seguono E ci seguiranno Anche al Pala Selvapiano Ciaminate che in estate È stata sottoposta Ad una metamorfosi Praticamente totale Giusto? Dal punto di vista Societario? No no Dal punto di vista Degli uomini Con tantissimi acquisti Dico Canzio Pablo Gonzales La Bella Caruso Tu stesso Tu sei stato Uno dei nuovi acquisti Salto qualcuno Umberto Caruso Dal riservo L'ho citato Comunque sì È una squadra Non del tutto Ma La maggior parte È nuova Sugli innesti Dell'anno scorso Sì Sugli innesti Dell'anno scorso Perfetto L'obiettivo Per entrambe Questa è la domanda È comune Quindi l'obiettivo Ce lo teniamo caldo Quindi già sapete La domanda Così non vale Però rispondete Dopo il prossimo servizio Che Cecilia ci sta Per annunciare Va bene Ho fatto questo Questo errore Sì Gianni Noi proseguiamo E tra l'altro Oggi concludiamo Anche così facendo Questa carrellata Più ridotta La carrellata Sì Una carrellata Più ridotta Di interviste In eccellenza E abbiamo Spinete Treppini Dove ci andiamo A sentire Simone Fasci Il centrocampista Del Treppini E poi invece Subito dopo Abbiamo raggiunto Giovanni Calabrese L'allenatore Dello Spinete Simone Fasci In questo tempo Vento a favore Siamo riusciti a fare Il nostro gioco Palla a terra E 5 a 1 Abbastanza meritato E la seconda vittoria Consecutiva 9 gol in due partite Vi rilanciate decisamente Verso la zona playoff Sì Noi quest'anno Noi quest'anno Non abbiamo obiettivi Primare Nel senso Non dobbiamo vincere Il campionato Né niente Dovevamo fare Un campionato tranquillo Però ora Con l'acquisto Del bomber napoletano Potremmo levarci Altre soddisfazioni Insomma Vediamo Partita per partita Sì Noi oggi Già partivamo Con una formazione Molto 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 Rimaneggiata Con in campo 2001 2099 98 Portiere 2001 Cioè Noi non avevamo oggi Grosse pretese Certamente L'espulsione Ci ha condizionato Ulteriormente E ci ha privato Del nostro uomo Diciamo Possiamo dire Uno dei Più esperti Uno dei migliori Che ovviamente La partita è stata Molto più complicata Del solito E allora La domanda Di Stefano Del Cusmo Lise CLN E Iacovino Della Ciaminata Che l'avevo già anticipata Quindi la cambio Sugli obiettivi Cioè Chiedo Una cosa inerente Cioè Se entrambe le squadre Di Campobasso Secondo te Antonio Possono fare I playoff O meno Sì Per quello Considerati gli organici Sì Per quello visto Fino adesso Il livello Anche del Girone Sicuramente Si può competere Fino alla fine Per Entrambe le compaggine Per un posto Nei playoff Quindi tu dici Sì Silvio Concordo Concordi E Tombesi E Manfredonia Sono una spanna Sopra di voi Personalmente No Siamo tutte lì Il livello Più o meno è quello Certo Non si devono perdere punti per strada Ma il livello È quello Anche perché Con le prime Vi siete comportati benissimo Sì Avete vinto con tutte Tranne con una Con la Tombesi No con la Tombesi Non avete vinto Sì Ah sì 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 Abbiamo vinto con la Tombesi Quindi insomma Con le prime Anche con il Cassano 3 a 2 Con il Cassano in trasferta Insomma la Chaminade E con il Manfredonia Soltanto con il Manfredonia Soltanto con il Manfredonia Avete perso 5 a 1 All'esordio In casa 5 a 1 Altrimenti con le prime La Chaminade Si è comportata Benissimo Nel senso che le ha battute Con le prime Il CLN Cusmo Lise No con le prime Male Infatti abbiamo perso Sia con il Cassano Che con il Manfredonia Però adesso Vedo che con questo Mercato di Dicembre Saranno sicuramente Decisivi gli acquisti Fatti dalle squadre Di Vertice Come il Manfredonia La Tombesi Che ha arricchito Il suo organico E quindi Adesso bisognerà vedere Come si comporteranno Allora il Tombesi La Tombesi Che tu sappia Come si dice L'articolo è maschile o femminile? No la Tombesi La Tombesi Ortona Oh finalmente Perché ci sono certe squadre Il cui sesso Ancora Non è ben determinato Allora La Tombesi Ortona Prima della classe Nel girone F Della serie B Di Puzzle Allora Gianni Io lo so che voi Chiacchierereste all'infinito Sì tu ci devi fermare Però potresti Vuoi chiedere qualcosa A uno dei due nostri Ne me la tengo in caldo Perché adesso Intanto ci fermiamo Noi facciamo uno spuntino Anche ai nostri amici a casa E ci vediamo tra pochissimo Sempre qui Puntata numero 192 Di Molise a calci Le mancano 8 a 200 Che è un bel compleanno 200 anni Non ci arriva quasi nessuno E noi sì però 200 puntate Non anni Ecco Al massimo Una persona può arrivare a 100 Quando tutto va bene Allora noi qui invece Dobbiamo vedere ancora La moviola Dei campionati regionali E il top e flop Che come sempre Desta una grande curiosità Perché si è andata sempre A spulciare Eh sì ci sono sempre Cose particolari Sì è degno di essere Messo in vetrina E chi invece Ha sbagliato Per questa domenica Purtroppo Però noi intanto Ci vediamo La seconda La moviola In collaborazione con Carburanti e lubrificanti Paglione Carburanti agricoli E per autotrazione Lubrificanti mobile Kuwait Oli motore Oli idraulici Oli per trasmissione Cambi differenziali Ora nella nuova sede Di Contrada Iontapede Nella zona industriale Campobasso Ripalimosani Carburanti e lubrificanti Di Paglione Dal 1952 Ci prendiamo cura Del tuo motore Con le immagini Siamo al Cannarsa Di Termoli Calcio di rigore Al secondo minuto Per il Termoli Andiamo piano Perché Il vasto Giratti Ha protestato molto Per la concessione Di questo calcio di rigore Che però A noi sembra Che ci sia Perché seguiamo Dedizia Con la maglia giallorossa Che entra in area Vedete Supera sullo slancio Gala Andiamo un attimo dietro Perché a un certo punto Si vede Il braccio sinistro Di Gala Ecco Andiamo avanti qui Vedete Devizia Entra in area Vedete il braccio sinistro Di Gala Braccio sinistro Praticamente La maglietta e la maglietta Azzurra Ecco questo è il momento Vedete Nettamente sul petto Di De Vizia Poi Gala Frano addosso A De Vizia Questo per noi Era calcio di rigore Giustamente concesso Dal signor Dunque Mastro Domenico Di Policoro E poi trasformato Da Mallardo Più tardi Al nono minuto C'è questa azione Del Vasto Girardi Che potrebbe pareggiare In fretta Seguiamo il lancio Di Calcagni Per Sisti Tutto solo Il numero 7 Del Vasto Girardi Mette incredibilmente A lato Un pallone Che chiedeva Soltanto Di essere Sospinto Nella rete Del Termoli Ventinovesimo Del secondo tempo A Spinete Calcio di rigore Per Il Treppini Vedete Il fallo Di Bartolomeo Che trattiene La maglietta All'attaccante In maglia bianco-verde Questo è calcio Di rigore Tutta la vita Giustamente Concesso dal signor De Castro Di Campobasso E poi Trasformato Da Napoletano Abbiamo visto La rispinta Di Borreca Sul primo tiro Dell'attaccante Del Treppini Vedete La rispinta Poi però Napoletano Tutto solo In sacca Il gol Del 5 a 1 Calcio di rigore Al Molise All'antistadio Si vede poco In realtà Perché Praticamente Sul calcio D'angolo Battuto Dalla destra Andiamo un attimo Dietro A centro area Si vedono due giocatori Ecco vedete qui Si vede il giocatore Del Molise Si tratta Di Cioffi A terra L'arbitro Il signor Michele Matarrese Di Termoli Di Termoli Ha praticamente Ritenuto Che fosse stato Spinto Da Notaro Quindi concede Il calcio di rigore All'FC Molise Bangura Dagli 11 metri Fa 1 a 0 Quarantesimo Del primo tempo Hanno protestato Molto i giocatori Del Castel Mauro Seguiamo il lancio Di Frangiosa Perché volevano Il fuorigioco Però se torniamo Un attimo dietro Proprio quando colpisce Il pallone Frangiosa Vediamo che Bangura È in posizione regolare Ecco Questo è il momento Vedete Bangura Che è tenuto in gioco Dal giocatore In lontananza Alla sua sinistra Sul Terreno Di gioco Un giocatore Del Castel Mauro Quindi l'azione Era regolare Bangura Poi entra in area Si fa respingere Il tiro Da sedile Ma non c'era Fuorigioco Diciannovesimo Del secondo tempo Oruri Davvero un gran gol Di Rossi Che non è nuovo A queste protezze Vedete Fermi il pallone Con il destro Effetto una finta Si sposta la sfera Sul sinistro Poi sferra Un gran tiro Che praticamente Colpisce Il palo Interno E finisce Nella rete Del Ferrazzano Il gol Del vantaggio Dell'Ururi Davvero molto bello Ururi che poi Vincerà 3 a 1 Abbiamo visto In chiusura Proprio Lo straordinario Gol Di Rossi Dell'Ururi Che merita la copertina Avrei dato un top Ma mica hai dato il top A Rossi Non si sa Proprio ferma Nelle risposte La nostra Cecilia Allora Prima di vedere Top e flop Dobbiamo chiudere Ci saranno Nel 2018 Ci saranno I CLN I CNU Chiedo scusa A Campobasso In Molise Antonio Di Stefano Sì sicuramente È un evento Molto importante È un onore Per la nostra regione Ospitare nuovamente I campionati nazionali Universitari L'ultima volta Nel 2010 Si erano Erano stati qui A Campobasso E quindi La nostra compagine Con il calcio a 5 Che nell'ultima Nostra avventura A Catania Ha raggiunto Loro Un traguardo Molto importante Trova difendere Questa medaglia d'oro In casa Questa volta E quindi Siamo fiduciosi Per questo Sì è scelto scritto Orlando Bidinotti Ovviamente Antonio Di Stefano Il capitano Del CLN Cus Molise Cosa dire in conclusione Di trasmissione Prima del Top e Flop Silvio Iacovino Innanzitutto La partita di Coppa Italia Del 23 dicembre Che formula avrà? Ci sarà una vincitrice secca? Beh Questo sarà il campo No Nel senso Chi vincerà Estrometterà l'altra? Sì 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 Quindi è secca la partita Quella del 23 Perché ci siamo soffermati Sulla partita del 16 Ma c'è anche quella Del 23 dicembre L'antivigilia di Natale Poi anche i vostri Spagnoli Riprenderanno La strada di casa Come è giusto che sia E voleranno In Spagna Ma lo faranno Proprio a causa Di questa partita Alla vigilia di Natale Correggimi se sbaglio Sì Come farò D'altronde Anche io Che volerò A Montorio Nel mio paese Anche tu Prenderai l'aereo E volerai A Montorio Nei Frentani Ecco Sapevo che volevi citare Montorio in particolare Che si sta ben disimpegnando Nel campionato Di serie C1 Giusto? Sì C2 Secondi con una partita in meno Quindi un grosso in bocca al lupa Di miei amici Chissà che l'anno prossimo Non mi vedranno difendere Di nuovo i pali Del mio paese Va bene Questo lo sai tu E noi vediamo Poi Chiudiamo anche con Antonio Di Stefano Vediamo cosa Sì Gianni L'attesa Anche per questo lunedì È finita Finalmente ci siamo E quindi noi ci vediamo Tutti quanti Con molta curiosità Il top e flop Top al Pineto di Amaolo Che ferma in trasferta All'Avezzano La squadra del momento Con le sue quattro vittorie consecutive La partita finisce 2 a 1 Per il Pineto Grazie alle firme di Tomasini E Ciarcelluti Di Pellecchia Il gol Dell'Avezzano Floppo allo Spinete Che non riesce più A fare punti E incassa ben 5 gol In casa Per mano del Treppini A compromettere Quasi del tutto La situazione C'è stata L'espulsione di Rossini Ma più in generale Pochi i cenni di vita Di uno Spinete Che domenica Sarà ospite Della Frentania E allora Top giusto al Pineto Che ha vinto Su un campo tra i più difficili del momento Cioè quello di Avezzano E flop allo Spinete Che ha preso 5 gol dal Treppini Ovviamente in questa vittoria Ci sono i 5 gol proprio dei campani Eh sì ci sono Quindi hai saputo scegliere a dovere Anche per questo lunedì Cecilia Antonio Di Stefano Come chiudere un intervento pre-derby Anche se mancano 6 giorni Sì mancano 6 giorni Ma per noi è iniziato oggi Come hai detto tu Questo l'abbiamo giocato E finito 2 a 2 Un pareggio che non scontenta nessuno No il mio invito è quello di venire a vedere la partita Al Palaunimo Lo sabato alle ore 16 E sarà sicuramente un bello spettacolo E chiaramente vincerà lo sport Giusto Sabato 16 alle ore 16 Il bis di Coppa Italia Il 23 Nella casa Nella Tana Della Chaminade E allora grazie Silvio Iacovino A voi E un saluto particolare anche a Montorio Per forza è d'obbligo Ormai è d'obbligo Ormai mi conoscono tutti È d'obbligo un saluto a Montorio Alla Sagra delle Tolle Alla quale vi invito Soprattutto la nostra Cecilia Che mi ha promesso di esserci Va bene Allora quindi Il sottoscritto non è invitato Ma poco Ma ce lo portiamo lo stesso Fa nulla Fa nulla Però lo stesso Silvio E allora in bocca al lupo Ad entrambi Alla Chaminade E al Cus Molise Cnl Per i due sabato prossimi 16 e 23 dicembre Antonio Di Stefano Grazie per essere intervenuto A Molise a Calci Grazie Gianni Per l'invito E un saluto a tutti Grazie Cecilia Gianni grazie a te Grazie ai nostri ospiti Io però prima di salutarci Volevo anche salutare E mandare un bacio Grandissimo A Marco Di Florio Perché è un nostro caro Telespettatore Quindi si merita Un bacio grandissimo Ciao Marco Noi ci vediamo Come sempre Lunedì prossimo Alle 21 puntualissimi Un bacio a tutti Buonasera a tutti Ciao a tutti Grazie.